La mia cazzo è a quest'ora del mattino, porco giurale, no. Ma cosa cazzo vuole questo? Cosa cazzo vuole questo del mattino? Uè, è grandissimo, com'è? Sì, sì, no, ma va, non mi disturbi affatto. Dimmi tutto. Ma questa sera? Ma non lo so. Ne impariamo oggi pomeriggio, dai. Va bene, no, ma va, non mi hai disturbato. Ma va, va, figurati. C'è la bellissima, c'è la grande, c'è la, c'è la. Ma puoi mai chiedermi a quest'ora del mattino che cazzo faccio stasera? Ma vaffanculo, va, 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 schianca da qualche parte.